Siamo a Fizzing Tour con Florian Aizat, riduce dalla sua migliore stagione in carriera, che gli ha fruttato anche l'Auvi. Com'è andata la preparazione estiva? La preparazione estiva è andata molto bene, tutto il programma insomma, ho lavorato molto bene atleticamente, sto bene fisicamente, quello è la base di tutto, poi anche gli allurmi sugli usciri sono andati molto bene, abbiamo trovato qualche giorno non tanto bello in Argentina, ma tutto sommato, tutto da programma e quasi pronti per soli. Però poi il tempo è stato bello, è stato migliore del solito. Ma è stato più o meno come sempre, abbiamo trovato quel periodo un po' più caldo che proveva, ma tutto sommato laggiù il tempo cambia in fretta e abbiamo portato a casa un buon lavoro e quella è una cosa importante. Adesso c'è Sölden, come dicevi, le ultime rifiniture? Sì, siamo appena tornati alla pista dove hanno cercato un lavoro un po' più sul gigante un po' più lungo per avere un po' la gamba pronta anche e adesso ci trasferiamo poi in Valse Nalles dove proviamo a trovare la pista barata ripida e sicuramente una preparazione ottimale per la Sölden. Con condizioni simili a quelle di Sölden? Infatti speriamo di trovare condizioni molto simili a quelle di Sölden. prospettive per la stagione? Beh, innanzitutto a continuare lì dove ho smesso. Ho fatto una bella gara di finale, la prima match dove ho potuto registrare a me stesso che tutto è possibile e quindi a partire da quel punto lì e poi a febbraio ci sono i campioni continuati in mondiali e quello sicuramente è l'obiettivo principale. E hai dimostrato che la pista ti piace. Proprio per quello ha ancora più valore. Grazie mille in bocca al lupo per la stagione. Grazie mille, ciao.